Linz Works ha annunciato che Aragami 2 uscirà su PC il 17 settembre. Il gioco porterà il franchise a livelli più alti, con meccaniche stealth migliorate e un nuovissimo sistema di combattimento strategico, in cui ogni mossa deve essere calcolata. Inoltre il gioco supporterà sia la modalità solista che quella cooperativa. Ecco le caratteristiche principali di Aragami 2. Una campagna che può essere completata da solo o con un massimo di tre giocatori in co-op, personalizzazione di armi e armature, un'ampia varietà di abilità, poteri ombra e equipaggiamento speciale. Molto di più verrà rivelato molto presto. David Leon, game director di Linz Works, ha dichiarato, siamo cresciuti molto da quando abbiamo lavorato al gioco originale e, come studio più grande, abbiamo l'opportunità di realizzare tutto il potenziale di Aragami con questo sequel. Una delle cose di cui siamo veramente entusiasti è il nuovo sistema di combattimento, che non solo offre ai vecchi fan un nuovo modo di giocare, ma dà il benvenuto ai nuovi giocatori con un'esperienza di gioco più intensa in Aragami 2. Se la notizia ti è piaciuta, lascia un like e un commento.